Mary Jane ASMR Ciao, bentornato sul mio canale. Io sono Mary Jane e sono qui per farti addormentare. So che non riesci a dormire e voglio occuparmi io del tuo sonno. Proverò a farlo facendoti ascoltare alcuni trigger che potrebbero validare all'istante. Devi solo indossare gli auricolari, se non l'hai già fatto farlo e non dimenticarti di iscriverti al canale e di lasciarmi un like se ti piacciono i miei video. Proverò a farti dormire in poco tempo. Spero, spero quantomeno di riuscirci. Iniziamo subito con i miei trigger. Spero, spero. Ciaowu Ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti